Gela, abuso d'ufficio, indagati sindaco e consiglieri comunali. La vicenda ruoterebbe attorno ad un esposto presentato in procura dopo che durante i lavori in consiglio comunale, nell'aprile dell'anno scorso, passò il piano costruttivo Gela Casa. Si tratta della costruzione di nove villette residenziali. L'Ulala ha chiesto interventi alla prefettura, disagi nelle campagne ogelesi per i continui furti di rame per un totale di 5 chilometri di cavi. Il comune ha fatto appello al prefetto di Caltanissetta per chiedere il repristino immediato dell'elettricità e scongiurare il rischio di incorrere nello stato di calamità naturale. Chiusura, neurologia, incontro urgente, l'hanno chiesto Cigelle e Cisle Will all'assessorato regionale alla sanità, direzione strategica ASP di Caltanissetta, amministratore e direttore sanitario Santa Barbara Hospital e alla sindaco di Gela. Le sigle sindacali puntano all'istituzione di un tavolo coordinato dal prefetto. Il loggioese Salvatore Sauna, candidato alle nazionali, l'ispettore della polizia municipale rappresenterà il popolo della famiglia, un partito nato da pochi anni che si batte per la tutela della vita e della famiglia. Sport e solidarietà all'ADAS, i giocatori del gioco a calcio sono stati protagonisti di una giornata all'insegna della donazione, un gesto solidale per chi ha bisogno ma anche un esempio per i più giovani. Un Google Group per il rilancio di Caltanissetta, progetti futuri con il coinvolgimento dei giovani, tutti possono aderire inviando proposte al Comune Vinceno. L'accusa di abuso d'ufficio e tutta la vicenda roterebbe attorno ad un esposto presentato in procura dopo che durante lavori in Consiglio Comunale nell'aprile dell'anno scorso passò il piano costruttivo Gela Casa. Si tratta della costruzione di nove villette residenziali. Nelle ultime ore i magistrati, sotto il coordinamento del procuratore capo Fernando Asalo, hanno spiccato degli avvisi di garanzia che interessano i consiglieri comunali che dissero sì all'atto, ma anche i dirigenti del Comune e il sindaco, Domenico Messinese. 15 indagati, oltre al primo cittadino, ci sarebbero il presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Acia, ed i consiglieri comunali Guido Siracusa, Carmelo Orlando e Romina Morselli del Partito Democratico, Sandra Bennici, Antonino Biundo e Cristiano Maluzzo di Sicilia Futura, ed il capogruppo di Diventerà Bellissima, Vincenzo Cascino. Coinvolto anche l'ex segretario generale Pietro Amorosia. L'inchiesta riguarderebbe pure l'ex assessore comunale all'urbanistica Francesco Salinitro. Gli atti del piano costruttivo, prima di arrivare nell'aula del Consiglio Comunale, per due volte vennero rispediti agli uffici proprio dei componenti della Commissione Comunale Urbanistica, che avevano accertato alcune incongruenze. Adesso, diversi indagati potrebbero scegliere di essere sentiti dai magistrati per chiarire le rispettive posizioni. Intanto, in città non si arresta purtroppo la scia di suicidi. Tre in tre giorni. L'ultimo in ordine cronologico, avvenuto oggi, lo ha compiuto un agricoltore sessantenne. La vittima si è uccisa ingerendo un diserbante. Il corpo esanime dell'uomo è stato rivenuto in campagna, in contrada Rinazzi. Campagna in ginocchio per i continui furti di rame, chiesto l'intervento alla Prefettura. L'amministrazione comunale, dopo un incontro con il Comitato Spontaneo degli Agricoltori, ha fatto appello al Prefetto di Caltanissetta finché si intervenga per ripristinare l'elettricità a Bulala. La zona è stata duramente colpita dai furti di rame, l'ultimo risalente a martedì 9 gennaio, per un totale di 5 km di cavi di media tensione. Disaggi tra i serricoltori che necessitano della corrente elettrica per l'irrigazione dei terreni e per l'attivazione degli impianti antigelo. Il rischio è quello di incorrere nello stato di calamità naturale. Ieri si è svolta una riunione con un comitato spontaneo di serricoltori, posto in essere proprio in virtù dei furti di rame che si sono successi nelle ultime giornate della scorsa settimana. Sono stati asportati oltre 5 km di condotta palificata, dove le problematiche attualmente sono nei tempi lunghi di ripristino. immediatamente compulsati da parte del comparto agricolo, ieri abbiamo fatto una riunione operativa e abbiamo avuto rassicurazioni da parte dei gestori Enel dell'impianto locale che i termini prima comunicati di 2-3 mesi per il ripristino totale sono stati ridotti a 15 giorni in virtù anche della rassicurazione del recepimento del materiale stesso e delle verifiche rispetto alle palificazioni attualmente esistenti. 15 giorni che, sebbene ci possono rassicurare rispetto allo stringente dei tempi, non possono essere idonei per il comparto agricolo in quanto le culture oggi presenti non possono gestire 15 giorni di mancanza di corrente elettrica il che comporta un totale non asservimento delle culture in termini idrici, in termini di termocondutture presenti e abbiamo necessità di poterli stringere. Paradossalmente ci comunicano anche gli stessi serricultori la impossibilità di trovare anche a volerlo strumenti alternativi di contingenza quali gruppi di continuità in quanto non se ne reperiscono nel mercato, né in acquisto né in noleggio. Sicuramente ci stiamo interfacciando insieme alla Prefettura anche a seguito di una proposta scritta fatta per venire già comunicata che si sta facendo per venire al Comune che ne legge in copia, ma soprattutto alla Prefettura dove questo comitato spontaneo ha già raccolto oltre 100 firme per una richiesta di intervento urgente da parte della Prefettura rispetto a un'intimazione all'Enel di porre in essere immediati attività di asservimento delle utenze elettriche. Cigella Cisle Will, assieme alle categorie del pubblico impiego, sanità pubblica e privata dopo un approfondimento sullo stato di salute della sanità nel territorio in seno denunciano l'atteggiamento alle scelte del passato governo regionale che con l'avallo della passata Commissione regionale sanità ha generato una riorganizzazione della rete ospedaliera confusionaria e incoerente con il fabbisogno sanitario specifico e generale di ogni singola realtà e disastroso sotto il profilo dei servizi resi. Nel dettaglio Emanuele Gallo, Ignazio Giudice e Vincenzo Mudaro rimarcano alcune certezze che solo i numeri possono dare ed evidenziano che presso il reparto di neurologia della Clinica Santa Barbara di Gela esistente dal 1998 sono stati assistiti più di 2000 cittadini pazienti tra consulenza di covid e una parte importante in termini percentuali arriva proprio dal pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele che in organico non ha nessun neurologo numeri diversi per essere precisi più di 1000 assistiti per il reparto di chirurgia generale che tratta patologie diffuse e delicate è del tutto evidente, spiegano i sindacalisti che la soppressione dei due reparti sta determinando un clima di forte destabilizzazione tra i cittadini di parecchi comuni della provincia di Caltanissetta oltre che delle province limitrofe che nei decenni per parecchi interventi chirurgici e patologie legate alla branca neurologica si sono serviti dei due reparti nella gazzetta ufficiale numero 15 del 14 aprile scorso l'assessorato regionale alla salute è da seguito alla riorganizzazione della rete ospedaliera prevedendo presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela una stroke unit, cioè una unità per l'ictus acuto CGL Cisle Will, nel ritenere preoccupante, assurdo e irragionevole il modo di procedere nella gestione della sanità nel territorio ritenendo preziosi per gli utenti i milioni di euro dedicati e destinati ad alcune patologie ritengono urgente avere un'idea chiara e definita e per questa ragione chiederanno una riunione urgente con l'assessorato regionale alla sanità direzione strategica ASPE di Caltanissetta amministratore e direttore sanitario Santa Barbara Hospital e sindaco di Gela Gallo, giudice e Mudaro inoltre ritengono urgente ed utile l'istituzione di un tavolo coordinato dal prefetto di Caltanissetta Da vigilo urbano a candidato alle elezioni nazionali si tratta di Salvatore Sauna ispettore della Polizia Municipale di Gela da anni impegnato anche in campagna e nelle scuole per sensibilizzare all'uso del casco e al rispetto delle norme stradali il prossimo 4 marzo Sauna rappresenterà il Popolo della Famiglia un partito nato da pochi anni che si batte per la tutela della vita e della famiglia La scelta è stata dovuta a una cosa, cioè cosa fare? Di fronte all'approvazione in Parlamento di tutta una serie di leggi contro i nostri valori, contro i valori cristiani e quindi mi riferisco a fratelli cattolici, fratelli evangelici ma a tutte le persone di buon senso Di fronte all'approvazione della legge Cirinna del divorzio breve, del testamento biologico e di una politica che aveva, dei partiti politici che avevano promesso Mario e Mondi per non vare a approvare queste leggi ma alla fine sono state approvate ci sono due alternative o una, continui a votare con questa gente che ti tradisce, che ti tradisce i tuoi valori che ti tradisce la tua fede, che tradisce i tuoi principi oppure organizzi un partito oppure vai al popolo della famiglia non ci sono altre alternative noi al popolo della famiglia ci poniamo in maniera seria anche se qualcuno mi dice che sono un medioevalista tradizionalista, non so quanti epiteti sono stati vittimi in questi giorni ma sono i nostri valori, sono i valori cattolici ci credi? Sì, ci credi? No è una cosa individuale ma è chiaro che ciascuno di noi si deve porre i cattolici cristiani, i fratelli evangelici cristiani ma anche i fratelli musulmani che hanno fratelli in Cristo, chiaramente in Dio che diamo tutti alla vita la vita è preziosa dal primo momento da quando due cellule si mettono insieme lì c'è la vita allora se credi che questa è la vita la devi proteggere, sempre, comunque e quindi noi siamo chiaramente contro l'aborto siamo chiaramente contro il testamento biologico in cui una persona viene giudicata per la sua capacità di produrre noi siamo contro questa mentalità ma siamo contro il buonsenso perché la vita è preziosa, è una, è sacra non possiamo decidere così e io vedo pure un disegno in cui permettetemi di dire esce fuori un mio pensiero l'uomo si vuole sostituire in tutti i modi a Dio ma io parlo sempre di credenti, chiaro, no? e si vuole sostituire a Dio però non mi rivolgo solamente in questo caso ai credenti ma anche a tutti coloro di buona volontà anche a coloro che non credono la vita comunque è un bene Parlare di rispetto, imparare l'ascolto e soprattutto imparare a riconoscere la violenza e dunque capire come comportarsi di fronte ad un caso di violenza di genere questi alcuni degli obiettivi del progetto a scuola di rispetto un progetto promosso dal centro antiviolenza di Caltanissetta Galatea il Tulipano in cui si ritrova l'impegno e il lavoro dell'associazione Galatea Ollus si tratta infatti di un'iniziativa che sarà rivolta agli alunni delle terze classi delle scuole medie ma anche ai figli delle vittime di violenze che necessitano di un sostegno scolastico 3.900 euro la cifra che verrà impegnata per tale progetto e che arriva dalle somme a cui rinuncia rispetto alla sua retribuzione da presidente del Consiglio Comunale Leila Montagnino destinate da attività di interesse sociale noi vogliamo ringraziare la presidente Leila Montagnino per aver pensato al centro antiviolenza e aver devoluto questi fondi al nostro progetto Scuola di Rispetto il centro antiviolenza insieme al coordinamento contro la violenza sulle donne da anni si occupa di prevenzione nelle scuole con dei progetti proprio finalizzati a portare avanti i valori della parità di genere delle pari opportunità nelle scuole per prevenire la violenza sulle donne quest'anno vogliamo indirizzare con la nostra attenzione in particolare alle scuole medie infatti questo progetto prevede il nostro intervento nelle scuole medie è anche un progetto di sostegno del percorso scolastico anche pomeridiano speriamo che il nostro ambito non si fermi a questo speriamo anche di poter attivare questi progetti nelle scuole superiori come abbiamo fatto gli anni precedenti perché siamo convinti che lavorare sulla cultura e sui ragazzi è l'unico strumento valido per prevenire la violenza sulle donne occorre conoscere la violenza e saperla identificare e poi sapere reagire anche prontamente conoscendo quelli che sono gli strumenti che esistono sul nostro territorio e la rete di sostegno alle donne che è messa a disposizione dal centro e dalle istituzioni proprio per garantire l'uscita dal ciclo della violenza intanto prosegue l'attività sul territorio del centro sostenendo e assistendo le donne vittime di violenza le utenti possono contattarci al 380 19 29 687 per richiedere un consiglio anche per chiedere aiuto con il sostegno il centro offre poi un percorso sia di sostegno psicologico che di consulenza legale per le donne e per i loro figli giornata all'insegna dello sport e della solidarietà all'ADAS i giocatori del gelacalcio si sono dati appuntamento al centro di raccolta di via degli appennini per donare il sangue un gesto di generosità che potrà salvare molte vite e che vuole essere un esempio soprattutto per i più giovani appassionati di calcio oggi abbiamo questa bella rappresentanza dei giovani che sono anche degli sportivi quindi sono anche degli esempi da seguire per i ragazzi noi abbiamo questa necessità soprattutto di aprire le donazioni ai giovani perché ci vuole un ricambio generazionale noi in questi mesi abbiamo detto spesso abbiamo avuto dei problemi anche per la perdita di molti donatori non fisici attenzione molte persone che si spostano per coscire di lavoro e quindi hanno più difficoltà ad essere puntuali con la donazione quindi speriamo che questo tipo di esempio da parte loro possa essere seguito da tanti ragazzi che noi incontriamo spesso anche attraverso le scuole comunque non possiamo esimerci da fare qualcosa di utile per chi sta peggio di noi e quindi come al solito siamo come ogni anno qui a donare il sangue siamo e sono degli atleti delle persone che stanno bene e quindi cerchiamo nel nostro piccolo di dare un contributo ribadisco a chi ha sicuramente più bisogno di noi speriamo che questo messaggio sia recepito soprattutto dai più giovani perché nella vita in cui viviamo e per quello che succede è importante darsi una mano e andare in aiuto di chi ha veramente bisogno speriamo che questo messaggio sia arrivi come ho detto poco fa ai più giovani in modo tale da cercare di dare una svolta in questo ambito Tu hai appena donato, come ti senti? No, mi sento soddisfatto so di aver fatto un bel gesto e spero che venga recepito da molti e che molti facciano uguale a me Noi giovani cittadini di Caltanissetta scommettiamo sul rilancio della nostra città nella quale siamo nate e che molti di noi hanno dovuto lasciare promettiamo altresì di fare del nostro meglio per l'elaborazione di idee progettuali finalizzate allo sviluppo sociale ed economico questa è la frase che si legge sul gruppo web della rete creativa dei giovani realizzato dall'assessore alle politiche sociali Giovanni Guarino subito dopo l'incontro dello scorso 2 gennaio a Palazzo del Carmine circa 70 sinora i ragazzi che hanno accolto l'invito dell'amministrazione comunale di aderire al network che consentirà anche a chi vive fuori di poter condividere idee progettuali e progetti e di cooperare con la consulta giovanile e il comune prosegue e prosegue in un modo veramente entusiasmante anche per me perché di fatto dopo che è venuta la riunione ho organizzato un sito web dove c'è un forum e questo forum praticamente consente di postare a tutti questi giovani da tutte le parti in cui loro si trovano da Parigi ce ne sono in questo momento negli Stati Uniti uno in Inghilterra ci ha scritto quindi stanno proponendo e ci stanno dando delle idee io penso sia una grande soddisfazione e mi auguro che noi possiamo trovare anche gli aiuti finanziari attraverso i fondi comunitari per rendere poi attuali e rendere diciamo fare proprio e seguire qualcuno di queste progettualità che sono molto belle ovviamente diciamo l'adesione il gruppo non è un gruppo pubblico perché per le scelte dei ragazzi loro hanno scelto di presentare poi pubblicamente queste progettualità in una seconda fase chi vuole aderire può fare una richiesta diciamo la richiesta la fanno a me come moderatore alla mia email assessore.guerinochiocciola.gmail.it e dopodiché ovviamente un minimo di dati e di informazioni circa il curriculum della persona e inseriamo all'interno del gruppo dopodiché sono abilitati diciamo a postare e a presentare le progettualità specifiche si darà sabato 13 gennaio alle 9.30 nell'auditorium della liceo delle scienze umane di Antelighieri di Gela il convegno per l'istituzione della culla per la vita il diritto ad esserci comunque l'iniziativa è del CAV centro di aiuto alla vita preseduto da Rocco Giudice previsti interventi di numerose autorità sarà presente anche il vescovo della diocesi di Piazza Almerina Monsignor Rosario Gisara la validità delle terze leaste in favore degli anziani rilasciate per l'anno 2017 in scadenza lo scorso 31 dicembre è stata prorogata al 31 gennaio prossimo il progetto clinico legginestre nell'ambito delle progettività rivolte alla prevenzione del disagio psicosociale indice un concorso di fotografia sociale dal titolo Nutriamoci di gesti io ti sto accanto alla realizzazione del concorso collabora il civico 111 il concorso è volto a favorire la realizzazione e la raccolta di foto che raccontino gesti di vita quotidiana della nostra collettività le foto saranno valutate da una commissione che a proprio insindacabile giudizio attribuirà tre premi alle foto giudicate migliori la partecipazione al concorso di fotografia sociale è gratuita la partecipazione al concorso è strettamente limitata a dilettanti e non a professionisti il plico contenente il materiale dovrà prevenire alla segreteria del concorso improrogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio per informazioni contattare il 347 57 49 348 sulla gazzetta ufficiale quarta serie speciale numero 96 del 19 dicembre scorso è stato pubblicato il concorso per titoli d'esami per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo la presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 18 gennaio per informazioni collegarsi all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it e miseria e nobiltà di Edoardo Scarpetta lo spettacolo previsto per questa sera alle 21 al teatro antidoto di Macchitella a Gela sul palco la compagnia teatrale insieme appuntamento con Enrico Guarneri al teatro comunale Eschilo di Gela sabato 20 gennaio alle 17.15 e alle 21.15 sarà proposto lo spettacolo I Malavoglia il botteghino del teatro è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 telefoni 0933 91 18 92 345 58 80 580 non c'è la Roma non c'è l'albero